Alberto Cottica 2007 Il ministro della cultura Francesco Rutelli presenta Italia.it con un video che poi diventerà famoso vedo che alcuni l'hanno riconosciuto Italia.it è un progetto del governo è un portale per vendere su internet servizi turistici delle aziende italiane sulla carta è un progetto forte perché dispone di un budget di 40 milioni di euro e passa delle risorse amministrative del governo italiano e di un responsabile politico il ministro dell'innovazione del tempo Lucio Stanca che viene da IBM e quindi conosce bene quel mondo nonostante questo Italia.it fallisce non riesce mai a produrre un valore vero per il paese purtroppo nel mondo delle politiche pubbliche fallimenti come questo sono abbastanza normali tutti ne facciamo esperienza a tutti i livelli da quello del grande progetto infrastrutturale a quello dei piccoli ma importanti problemi oltre la nostra soglia di casa e perché accade questo? per rispondere a questa domanda dobbiamo sollevare il cofano e vedere cosa succede nel motore delle politiche pubbliche in una democrazia moderna sotto il cofano ci sono delega democratica e processo amministrativo delega significa che i cittadini scelgono un rappresentante e lo incaricano di gestire la cosa pubblica questo è un processo molto inclusivo perché tutti sappiamo come votare ma ha il problema che non riesce a valorizzare completamente il patrimonio di idee di competenze di passione dei cittadini anche quando questi tentano di comunicare idee o di offrire critiche il rappresentante questi semplicemente non riesce a incorporarle tutte nelle proprie mappe mentali sono troppe il rappresentante eletto poi agisce per mezzo di una struttura amministrativa che è quella che concretamente realizza le politiche pubbliche le strutture amministrative sono pensate per applicare in modo rigido regole formali stabilite a priori questo sistema è molto stabile e molto imparziale quando funziona bene ma ha un difetto non è flessibile rispetto a eccezioni cambiamenti di scenario e non è flessibile nemmeno rispetto a contributi che i cittadini potrebbero offrire in modo inaspettato e infatti i singoli cittadini vengono quasi sempre vissuti come soggetti passivi delle politiche pubbliche utenti beneficiari ma mai protagonisti tanto la delega democratica quanto il processo amministrativo sono invenzioni molto antiche e hanno funzionato bene per secoli e la ragione per cui hanno funzionato così bene è che permettono di economizzare intelligenza umana che è stata per tanti anni una risorsa scarsa nella storia dell'umanità ancora nel 1861 all'indomani dell'unità solo 22 italiani su 100 sapevano scrivere il proprio nome oggi naturalmente non è più così l'intelligenza che era una risorsa scarsa è diventata una risorsa abbondante e diffusa e questo è un bene è un bene perché ci troviamo a fronteggiare temi emergenti e di scala universale come la globalizzazione la finanziarizzazione spinta dell'economia il riscaldamento del pianeta l'aumento delle disuaglianze l'azione collettiva delle politiche pubbliche rimane secondo me la nostra carta migliore per riportare questi fenomeni sotto controllo e se falliremo beh ci aspettano periodi di disordine e di sofferenza come possiamo fare quindi per utilizzare l'intelligenza risorsa abbondante per rendere le politiche pubbliche migliori con internet internet è il luogo in cui ogni giorno le persone spesso milioni di persone collaborano a progetti che da soli non potrebbero mai raggiungere l'esempio più noto ma certamente non l'unico è quello di Wikipedia nel 2007 l'edizione inglese di Wikipedia supera i 2 milioni di voci e diventa la più grande enciclopedia mai scritta nella storia dell'umanità si calcola che nei suoi primi 8 anni di vita Wikipedia abbia incorporato 100 milioni di ore di lavoro circa che corrisponde al lavoro a tempo pieno di 6.000 e passa redattori solo che i 6.000 redattori non ci sono Wikipedia ha 50 dipendenti e 14 milioni di contributori volontari che non ricevono compenso non fanno riferimento a una struttura di comando e non si conoscono neppure ma tutti i giorni collaborano a costruire un oggetto che ha una forte coerenza interna per grafica stile e metodo com'è possibile questo? di nuovo la risposta sta sotto il cofano sotto il cofano dei processi così troviamo autoselezione e reti sociali autoselezione vuol dire questo ciascun contributore di Wikipedia decide da solo intanto che vuole partecipare a Wikipedia e poi su quali pagine lavorare nessuno glielo dice questo permette a ciascuna persona di posizionarsi esattamente là dove ha più da offrire più competenze e dove è più appassionato ha più motivazione reti sociali vuol dire che il software e le regole sociali che stanno sotto a Wikipedia mettono in comunicazione ciascun contributore con gli altri che sono interessati a lavorare sulla stessa pagina questo porta a flussi di informazione e di collaborazione che non sono progettati da nessuno sono emergenti tipicamente hanno una configurazione molto complessa perché sono il risultato di miriadi di decisioni individuali aggregate in una specie di intelligenza collettiva ma il risultato è straordinario abbiamo 14 milioni di wikipediani ciascuno posizionato esattamente al punto giusto quello dove il risultato è massimo e lo sforzo è minimo è questo che rende la collaborazione in rete così efficace ed è questa configurazione che noi dobbiamo applicare alle politiche pubbliche se vogliamo che siano all'altezza delle sfide che ci attendono complicato? certo ma non più di tante altre cose che l'umanità ha già fatto e sta ancora facendo da diversi anni siamo impegnati in sperimentazioni di quello che Beth prima ha chiamato open government politiche pubbliche collaborative abilitate dalla rete e questi esperimenti hanno già dato i primi risultati per esempio abbiamo dei principi di progettazione sostanzialmente condivisi per progettare queste politiche come accettare il cambiamento costruire comunità e fidarsene praticare la trasparenza radicale e fidarsi e rispettare molto il contributo del cittadino che è il vero motore di tutto questo abbiamo anche diversi esempi pratici progetti concepiti in questo modo che stanno funzionando io stesso ho avuto la fortuna di lavorare a diversi di questi progetti a tutti i livelli amministrativi da quello locale a quello internazionale infine è cosa molto importante abbiamo una comunità globale di persone esperte di queste cose e disposte ad aiutarci alcune le state conoscendo in questa giornata quindi è difficile ma si può fare e la chiamiamo come ha detto Riccardo Wikicrazia un'azione di governo aperta imperniata sulla collaborazione costruttiva tra cittadini e istituzioni è abilitata dalla rete e per realizzarla compiutamente c'è già un'infrastruttura importante su cui possiamo contare i siti web pubblici in Europa ce ne sono circa un milione sono siti pagati dal contribuente e che hanno una finalità di tipo pubblico ciascuno di questi può diventare il canale per una conversazione tra cittadini e istituzioni e chi li gestisce questi siti? tutti funzionari pubblici tipicamente di basso rango stagisti cittadini volontari studenti ciascuna di queste persone può essere un eroe locale può essere il protagonista di un pezzo delle politiche pubbliche al tempo della rete e con un minimo di incoraggiamento molti lo saranno questa quindi è quella che noi chiamiamo Wikicrazia è una miriade di conversazioni costruttive tra società civile e istituzioni abilitate dalla rete naturalmente non sarà facile aprirle ci saranno resistenze culturali ci saranno ostacoli di natura legale amministrativa qualche volta forse anche interessi da contrastare ma ho una proposta per voi facciamolo lo stesso e facciamolo subito buon compleanno web buon viaggio Italia grazie a tutti 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 grazie a tutti